Musica Un'upore de zente arribada dai totus a Sardigna, a Custu Manzano, a Castedu, mutia dai su Comità o Prato Bello 24, a Tacumpanzausa consigna desarbelle ducentose undichimizza virma scollia sprosalezze d'iniziativa popolare che punna tassar modificas urbanisticas provvirmare sa che è sconsiderada un'invasione desar multinazionale erdese energia. Una manifestazione esutta su Custizio regionale, anna posto un'upalco da Eube anna vattusos intervento sul rappresentante erdese scomitaus territoriales anti-eolico e uno scanto sindicoso, a cominciare dai Pasquale Mereu, sindico de Orgosolo, in prima linea in sa protesta. A su Custizio regionale pedini deva che rarribare sa lezze in aula che in sacolare prosa a scommissionese. Su presidente desa commissione e governo desu territorio Roberto Ligioi su tal linea da chisa proposta ad elezze l'ana a esaminare si chinde su chi stabiliti su regolamento desu Custizio ga e comente anna vattu prosu decreto lezze barantachimbe e prosa moratoria. Prosu chi pertocca su camminu cominzao in commissione desu decreto desa giunta a torde su prasasaria sidoneasa entro di Custuzero si deve ne presentare so semendamentoso. Su traballo nostro natali gioia attandara da innantisi chins obiettivo deva chere prima possibile. Custu manzano nugoro si chiesti schidada che insosocro desa tristura a postir desinterrode e sarvittimar desi strage de carriere cnusa. Dai mercurisi sa città destaturdia che è difficile per una comunità dei pacco prurde 30 amici abitantese uvesi conoschene totus e uvegalusi pratica taso controllo sociale a comprendesco mentre spottu capitare chi Roberto Glebonica patisperdi usa famiglia sua che sa chinemosi sia tabizzau de nuda innantisi uno zinzale, una paragolo, uno zinno franco carchi briga in famiglia a bocchearta. Su nome da Sardimanda a barrare che non sa una risposta a dispetto delle aziendagini che ci sono stati mandati da innantisi delle polizie carabinerisi coordinati da esospiem della procura della Repubblica dei Nugoro. Ora mai bapacude a averguare in sa dinamica desorfattos che su mortore si è morto e non sa andare a dibattimento. Mania del controllo in famiglia problemi economici che ci sono stati ipotesi dei inquirenti sa città dei risa partecipato con patta sosi in terror de Paolo Sanna in Santa Maria a Manzano e de Giusi Massetti che in sorfizzor Martino e Francesco aborta i die in sa parrocchia de Santo Duminico e Savio uve Francesco de Cannos in Berano a fattu sa comunione. Supra su baule e bianco che a cussu de esa mame e de esa sorre un upannu che in sorbattor moroso e sa sprima all'iterar de su nome nesuo e de su vrade de battor di Cannoso su ni cui scampau a savuria omicida de su babbu fra de che noi scherfiu mancare a sintterru de suor familiarese a cumpanzau de su riajoso prodare su ultimo saludo proprio a su vradicheddu istimau supra su baule de Martina e studentesse e fizza modello Rosa Rui ardonu de esa morao Francesco un abbraccio manu de amore a cumpanzau da esos cantor de su coro de Nugoro che i sor cittadinos acudiu acudiosana che rifiudare a una famiglia iacarada da esa avuria omicida de un uomine solo e che comode per tacattare esa forza prosiche pesare su mattessi amore vidua manzano da esa arfizzasa e da esa muzzere da esa sorre e da esa generu de paolo sanna un uomine buono che stimava sa famiglia sua e su canto e su complesso vocale Nugoresu la che fia companzare in sultimo viaggio che in so scanto schissu puro con noschiate cantavata e fuori pericuro magalo ricoverada sa mama de Roberto Gleboni Maria Riccardi sa puro ferta da esuvizzo in nantir de su chidere a su mortore che l'han interrao erisi a manzanucchitto in su campusanto comunale de Nugoro che sa missa che sa ludare a schire forzisi pro chistioner de securesa e de ordine pubblico a posti des allarme de martesero costumanzano vattapionate l'emergenzia bomba in Terranova costa borta estuna valigia asula cattada in sosposteggio sin denantir des euro spina pacutretto da es euro village a posti de aere evacuase locu e postulacana sa sa zona bloccause intrada su supermercado sosa artificieri dello scarabiner de Terranova sospompierise sa croce rossa na posti nato su protocollo antiscoppio sosa artificieri sani sparau chindu un canone aaba sa valigia fa che non istampu propoderviere ite bayate in intro chinduna telecamera a cabadas operazione son militare san apertu sa valigia pro averguare chi non bayare tapio nudade periculoso in intro e di fattis e di fattis si fiprena di prodotti alimentare che ha batturo 2029 presentao presentao una chida vacchete da su sindicu desa cittade turritana Giuseppe Magia sua posizione è spartia entre chi è pressata chi su cammino di fattis che sia giusto ma che incarchi mudamento strategico e chi è imbezzese trocche su murro su taline andre che su non è questa situazione strascurata che ha su piano di sviluppo in questa zona ex industriale che ha fiume santo un riguardo particolare perché si vengono da minoranza etnica o popolo o nazionale che ha colonizzato la terra nostra come funziona questo scambio questo scambio funziona da io li do maniera drummire e i suoi vengono mi danno una mano di azzurro in cubile vengono per imparare a lavorare la terra vengono per imparare a murgher per essu vengono per trovare in mano italiana sovranità alimentare se non che sono tiranti voi avete lasciato questa esperienza e secondo voi avete lasciato a issus a issus sicuramente avete lasciato un montone di esperienza appunto poter lavorare a terra e tenere un contatto diretto con la natura la barrabina ha un'esperienza di una cultura completamente diversa e probabilmente manco manco se lo pesciavano e poteva essere in Europa in Occidente nel centro del Mediterraneo una terra aumenta la Sardegna è sprena e ricca di cultura tradizione di folklore di musica ma in particolare di ruralità di ruralità quindi il mondo di campagna a me me lasano un montone di amici amici che sono attivate sul mondo andiamo è bellissima quindi un scambio culturale aveva un po d'andarego praticamente non è ma tessi osa però è importante è bella se è stato contrario di un uvile tancato serrato e non aperto a scontaminazione ma siamo su uvile sono sempre visto mescamente in barbagia sono sempre visto gli ragazzi però se vediamo un vieno su uvile del monte in attore di uvile noi andiamo a ferra da gente a ferra da gente sola da gente tosta da gente diffidente però teniamo un da secolo su villa del monte ho la gente di tutto il mondo visitatori studiosi e gai e sicuramente per diffidenti di noi cantiamo per aperto però se rihanna mi sono sempre aperta a tutto lo teniamo su San Bene Puro per colire la